Ciao a tutti, sono Sharon Muscolino, ho ben giù due anni, vengo da Cappanissetta, ho conosciuto il premio donita tramite Giuseppe Dell'Utri. Dell'Utri non ho mai studiato canto e stasera mi presento con un mio inedito che si chiama The Difference. What is the difference? What is the difference? What is the difference? One, two, three, four.